Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso rallentamenti in A11 tra Prato Oves e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In FIPILI per lavori di ripristino danni causati da un incidente, code tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Mare. In direzione Firenze invece code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze invece code per veicolo fermo in avaria tra Monte Rigioni e Badesse in direzione Siena. Da segnalare anche code per traffico intenso tra Impruneta Greve e Inchianti e l'allacciamento con la 1 in direzione autostrada. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!